Buongiorno Buongiorno Dal bagno alla reception Siamo arrivati in reception Stiamo facendo il nostro ingresso in reception Un po' di fresco Che fresco qua significa tipo 29 gradi invece di 30 Nel bancone del limbaldo Dove io prenderei un caffè E qua c'è il soffitto bello? E qua C'è anche il lampadario Ah c'è il video? Si Desculpe C'è il nostro amico Stalin No No Hola Hola Uno o dos espressos, Bea Uno Uno espresso Dos Uno Grazie Que bien Hace un film Si Se dice hace o hago? Hago Hago un film Disculpe No, no 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 E il passato Are? Are Are Io are, tu arras El arra Esattamente No saremo, sarei saren Lo sai meglio che me Eh, mica tanto Ho studiato un passo italiano Oh 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 Grazie.